Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora lontana dall'Italia. Andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile. Il dettaglio di sabato 10 giugno. Sul Veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso generalmente assenti sulla costa o al più locali. Piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie minime tra 15 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso. Dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime sui 24 e 26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.